in collaborazione con sportoutdoorviaggi.it Marco Hosis Technology Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con S4 il Toll Show di Sportador.tv il canale televisivo dedicato allo sport, alle vacanze e al turismo puntata questa dedicata ancora alla motonautica una delle discipline sportive che noi seguiamo da tantissimi anni nel corso del puntato abbiamo parlato di giovani, di off-show, di moto d'acqua come ben sapete la federazione italiana motonautica gestisce da 100 anni il 1923 anno di nascita di questa federazione che è una delle più titolate dello sport italiano delle federazioni non olimpiche 100 anni di storia come l'aeronautica italiana la prima edizione pensate della C1000M di automobilismo del 1927 quindi una federazione importante che gestisce tutto il movimento dello sport acquatico legato ai motori sull'acqua, mare, fiumi, laghi eccetera questa settimana parliamo di una delle classi più importanti la Formula 1 come le auto anche la motonautica alla Formula 1 con l'amico Ezio Cremona presidente della motonautica San Nazaro che è una delle organizzazioni sportive di motonautica più importanti del territorio italiano grazie Ezio per aver accettato il nostro invito Alessandro Basico che è il segretario della federazione italiana motonautica che ci spiegherà che cos'è la federazione gli scopi di questa importante federazione e poi l'amico Virginio Gandini che è della commissione di Porto nonché presidente del club del gommone di Milano che è una delle organizzazioni di gommonauti più importanti del mondo della nautica grazie Virginio, un amico delle nostre manifestazioni e ho detto allora Formula 1, la classe regina un po' come nelle due e nelle quattro ruote c'è la classe top Ezio del MotoGP e della Formula 1 per vendere il mondo delle due e delle quattro ruote anche la motonautica funziona così l'anno scorso è una grande stagione a livello della Formula 1 con due gare a San Nazaro Don Gina intanto diciamo dove è San Nazaro Don Gina è un piccolo paesino ma però che ha una grande storia sul fiume Po in provincia di Piacenza giusto? giustamente è una piccola frazione siamo 600 abitanti quindi veramente molto pochi ma con una grande passione una grande anima che è quella della motonautica fra l'altro siamo cresciuti come società proprio vicini a quello che è stata la storia della motonautica Piacenza Caorso con il circolo Chiavenna quindi chiaramente uno dei punti e forse tra i piloti che più hanno espresso piloti a livello mondiale sia in Formula 1 che nelle classi minori quando addirittura poi c'era anche il genio Pontieri che presentava i suoi piloti ecco qui vediamo proprio l'immagine della partenza della Formula 1 della gara che è stata disputata quest'anno ma direi che il tutto nasce poi più per caso che per io spero anche per qualcosa di merito nostro ma quando nel 2021 ci venne proposta e allora sembrava che fosse solo l'unica gara disponibile per rimanere in Formula 1 io chiesi subito a chi mi stava dando questa notizia che era il giorno del mio compleanno e che era un grande della motonautica Guido Cappellini mi diceva verremo a fare una gara di Formula 1 a San Nazaro e io risposi ma probabilmente le telecamere di Candid Camera ce le ho alle spalle perché era praticamente impensabile una cosa di questo genere e invece poi questo sogno questo sogno che avevamo noi di San Nazaro noi come associazione nel cassetto si è invece avverato ne è uscita una manifestazione organizzata nel mese di agosto quindi nel mese in cui l'Italia normalmente si ferma noi eravamo all'opera e siamo riusciti a fare questa bella manifestazione quello che mi ha comunque entusiasmato è stato il riscontro che ho avuto dai piloti i piloti sono rimasti veramente tutti impressionati alcuni già conoscevano San Nazaro in quanto è uno dei campi federali anzi il campo federale per eccellenza che può permettersi anche perché l'Italia è una base della federazione proprio un centro federale e poi hanno detto la cosa più importante all'amico Ezio che siamo in Emilia-Romagna la Sport Valley la valle dei motori la regione di eccellenza dei motori l'Imola si corre la Formula 1 a Misano si corre il MotoGP la Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati sono lì in Emilia-Romagna e anche la motonautica ha una grande storia ha una grande storia devo dire che il risultato che abbiamo ottenuto non è stato solo punto merito merito nostro al di là del riscontro positivo dei piloti ma chiaramente in prima persona federazione e regione Emilia-Romagna perché sono poi quelli che hanno sostenuto questo progetto che hanno sostenuto questa manifestazione noi non abbiamo fatto altro che mettere a disposizione quelle che erano le nostre capacità la vostra passione e i volontari che è la vostra forza esatto ecco grazie Ezio per questa piccola presentazione poi parleremo perché di Formula 1 che è la classe regina del circuito invece con il segretario con il segretario Basilico parliamo della federazione italiana motonautica io ho detto cento anni di storia come l'aeronautica 1923 prima della mille miglia ogni anno in Italia il 60-70% delle gare a livello mondiale vergano organizzate in Italia perché gli altri paesi non riescono non hanno la struttura che ha la federazione e ogni anno il 60-70% dei titoli vinti a livello mondiale sono dei piloti azzurri mi sembra una bella presentazione per una federazione che è una delle più antiche dello sport italiano sì è vero quest'anno la federazione fa i cento anni e la vuole fare nel migliore dei modi come? semplicemente ripetendo quello che è stato fatto nei cento anni precedenti vale a dire una serie di gare di alto livello su tutto il territorio nazionale quindi agonismo motonautico spinto al massimo livello ma da quest'anno ci tenevo a rimarcare anche un progetto molto importante quello dei vecchietti dell'Hemingway ancora presto non chiamarlo così Floriano perché quella è la chic che mi voglio che riguarda anche te perché la voglio presentare in chiusura di puntata va bene per i nostri amici che so che ci seguono numerosi io vengo dall'offshore degli anni 80 la federazione ha presentato un progetto che vedete qua sotto ho voluto a presenziare ancora presto perché prima voglio fare presentare che cos'è la federazione che questa è una cosa che adesso l'amico Savino ha già inquadrato ma che fa adesso per gli anziani ma anche per i giovani abbiamo visto il regista Elia ha appena mandato le immagini della Formula Junior il regista di 30 di l'accompagnamento dei ragazzini dai gommoncini in match race queste gare uno contro uno fino appunto ad arrivare alle classi regine come la Formula 1 giusto? sì sì giustissimo Floriano l'amico Ezio è testimonial delle manifestazioni di alto livello di campionati mondiali della motonautica ha proprio l'eccellenza della motonautica agonistica l'amico Virginio rappresenta anche tutto quel settore di di porto che viene svolto con passione su tutto il territorio nazionale da una miriade di appunto di appassionati ma la federazione non è solo attività sportiva pura e agonismo puro è anche diciamo prevedere un bacino di utenza di nuovi piloti e far crescere nuovi piloti dalle categorie di ingresso mi riferisco soprattutto alle categorie che stiamo vedendo adesso la Formula Junior Elite che è una formula che ormai ha un successo da più di 5 anni recluta sempre nuovi ragazzi che sono poi destinati a rimarcare le geste agonistiche dei più grandi piloti del presente e anche del passato e quindi la federazione motonautica non solo deve pensare all'attività sportiva dell'alto livello ma anche coltivare i giovani anche i giovani e quindi abbiamo detto di tutto questo percorso di avvicinamento queste sono immagini del circuito perché come nelle due e quattro ruote c'è la classe top che poi a livello mediatico porta visibilità per far ingranare tutto l'indotto che c'è dietro alle macchine e alle moto e anche nella motonautica funziona così tanta tecnologia vincente a livello italiano nel mondo che fa sì che si vendano tante barche e in effetti la nautica sta vivendo un grande momento i cantieri hanno tre anni di contratti fatturati di miliardi e l'amico Virginio rappresenta proprio il club del gommone che è uno degli club storici d'Italia degli amanti del gommone ora si è anche della commissione di Porto che è la parte sportiva delle barche di serie legate alla competizione giusto? Ho detto bene Virginio? Certo dall'anno scorso devo dire che la commissione di cui faccio parte sta vivendo momenti di entusiasmo visto la partecipazione che riusciamo a ottenere quest'anno sono iscritti per il campionato italiano circa 30 concorrenti e mi pare divisi su quattro classi perciò sono classi comunque sempre numerose e devo dire che per quel che mi riguarda come associazione e così via a me piace anche portare in giro presso le altre associazioni il logo della federazione motonautica italiana perché secondo me far parte della federazione motonautica italiana segretario vuol dire essere certificati come associazione vuol dire moltissimo perché per entrare bisogna sottoporsi a un certo tipo di controlli e così via cosa che altre associazioni non so per volontà o quant'altro non fanno pazienza non è da adesso che sono in commissione di porto ho già vissuto sono le barche di serie poi tu sei anche nel club del gommone 1970 oltre i 50 anni che ce n'è tante di associazioni di gommonauti che ora diciamo è una barca abbastanza semplice è facile si può noleggiare locare sotto il 40 cavalli non serve la patente che questa è un po' è come uno che guida la macchina senza la patente anche lì è una norma questa è una norma che io non voglio discutere è il 40 cavalli il cosiddetto senza patente tra l'altro noi abbiamo promosso questo discorso del 40 cavalli abbiamo fatto delle cose egregie negli anni scorsi 2017 2018 2019 abbiamo fatto prima il giro d'Italia con un 40 cavalli 55 metri scusami e poi a seguito Genova Gibilterra Genova sempre con un 40 cavalli e abbiamo fatto da Genova ad Atene poi il ritorno su Venezia e ha risalito tutto il Po fino a Pavia sempre con un 40 cavalli lo stesso 40 cavalli usato per le manifestazioni perciò questo vuol dire moltissimo per il 40 cavalli adesso nelle prossime che stiamo facendo abbiamo alzato un po' l'esigenza di montare dei cavalli in più proprio perché andiamo anche ad affrontare altre situazioni l'anno scorso abbiamo fatto un radio europeo siamo entrati anche in Oceano abbiamo fatto il canale della Manica e così via perciò serviva qualche cavallo in più insomma sotto legge della federazione questo è importante sempre con il patrocino della federazione motoronautica italiana questo sì quindi siete tante associazioni in Italia come gommone no? sì dalle pagine di una rivista che ci segue sempre se ne contavano almeno una settantina chiaro la crisi la crisi economica prima il covid dopo ne ha eliminato però questo del di Porto 30 barche è un grande successo barche di serie importante è una nuova classe touring si chiama la touring cup è una nuova classe già gareggiata l'anno scorso infatti abbiamo visto le immagini quelle immagini che il regista lì assieme ai tecnici Rodolfo e Matteo ci stavano facendo vedere era proprio una di queste gare della stagione che sta per iniziare la mitica centomiglia dell'ario 1949 la prima edizione e qui vediamo proprio le barche di offshore le barche di serie tutte insieme quasi cento barche al via un grande successo di questa che è una gara storica abbiamo visto proprio delle barche superate dai gommoni questo è un grande momento Virginio sì sicuramente belle queste immagini allora Virginio ha parlato di Pavia Venezia e qui ti tocchiamo un tasto dolente tu sei fortunato perché sei posizionato prima della chiusa di Isola Serafini ma quest'anno la situazione dell'acqua è un po' tragica peggio dell'anno scorso com'è la situazione sul fiume sì come vedi sono nato con la camicia quindi per questo è la fortuna tu sei fortunato tu l'acqua c'è perché c'è la diga diciamo che già l'edizione 2021 è stata una San Nazaro Venezia perché chiaramente la situazione che portava da Pavia a San Nazaro era già critica e quest'anno sicuramente la situazione non è migliorata penso anzi per quello che vediamo che seguiamo sui telegiornali e così via quotidianamente ci tengono informati su quello che è lo stato della siccità e lo stato di salute del fiume non fanno prevedere chiaramente grandi cose tutti speriamo nella possibilità che la cosa si modifichi però credo che non da esperto ma manca neve in montagna quindi il rischio che abbiamo è che se dovessero venire anche delle piogge consistenti probabilmente avremo l'effetto opposto quello di avere più acqua ma anche detriti quindi forse ancora più pericoloso per cui questo poi spetterà chiaramente agli organizzatori valutarlo e quindi il problema era per Venezia che era i primi di maggio la gara di maggio di Boreto Po che è una delle capitali della motonautica mondiale e poi la storia appunto come ha detto di Caorso e non solo ma anche la Formula 1 l'anno scorso ben tre gare in Italia le due che vediamo di San Nazaro Dungina poi la gara in Sardegna di Olbia quest'anno al calendario è la cosa che ci preoccupa non c'è nemmeno una gara in Italia cioè non c'è nemmeno una gara a livello mondiale diciamo la verità forse di qua forse di là e non esiste che una federazione mondiale un promoter a metà aprile non sappia dove andare a correre questo è tragico poi col successo che ha avuto le gare italiane Emilia Romagna con la patria dei motori motonautica due ruote quattro ruote la Sardegna abbiamo visto l'assessore Kessa che ha mandato a spigolare la America's Cup di vela e anche la Formula 1 mi sembra che sia sulla stessa strada quindi è un po' tragica questa situazione sì diciamo che risentiamo sempre di quello che è stato il recente passato come diceva appunto l'amico Gandini ma il problema è stato che nel 2021 forse grazie a San Nazaro grazie alla federazione grazie alla regione siamo riusciti a riavviare un campionato mondiale che era fermo da due stagioni io considero sicuramente il Covid come una delle cause ma teniamo presente che tutte le altre tutte le altre discipline sportive come dicevi tu prima le due ruote le quattro ruote comunque hanno proseguito qui è ripartita da San Nazaro l'anno scorso credo che siamo stati veramente premiati per il lavoro che abbiamo fatto dalle due gare abbiamo fatto gara 1 e gara 2 Gran Premio Regione Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia che testimoniava quanto ci tenessero comunque le autorità anche della regione a seguire questa nostra manifestazione il circuito si è dimostrato altamente all'altezza noi abbiamo un circuito su cui si gira sui 46-47 secondi e l'anno scorso in Sardegna hanno girato in 27 secondi quindi capisci che è un po' complicato è un po' complicata la cosa però al di là di questo credo che la Formula 1 noi non abbiamo ancora chiuso il capitolo Formula 1 stagione 2023 a noi è stato chiesto di posizionarci in una data che per noi in questo momento non è perseguibile che è quella di luglio che dovrebbe essere il secondo weekend di luglio però stiamo valutando e vedendo un attimo quello che si può vedere cioè fare una gara a luglio con la siccità perché queste che vediamo sono le immagini di settembre ma il po' non è così il po' è molto più arido perché qui c'è subito dopo c'è lì una chiusa che quindi ti permette di raccogliere tanta acqua quindi tu sei fortunato perché lì l'acqua si ferma c'è una diga dopo e quindi l'acqua ce l'hai fare una gara a luglio mi sembra un controsenso la cosa drammatica la cosa drammatica in questo momento è che la centrale idroelettrica di Isola Serafini è ferma perché comunque pur avendo noi acqua a sufficienza per quello che potrebbe essere un'eventuale manifestazione non abbiamo acqua a sufficienza per poter dare energia elettrica quindi capisci che anche le circuitazioni alternative cominciano a preoccupare non solo voglio dire la motonautica ma se non si fa la formula 1 abbiamo la formula 2 però giusto? noi stiamo lavorando per il piano B chiaramente per il piano B l'importante è che si corra e alla grande segretario la federazione cosa ne pensa? lo so che Ezio è di parte giustamente fa il suo lavoro e lo fa anche molto molto bene e parla perché lo ricordiamo è che è uno speaker di motonautica importante da tanti anni oltre che presidente di questa società una delle storiche papà di due grandi campioni Alessandro che era ospite con noi la scorsa settimana e Massimiliano che hanno vinto tutto quello che c'era vincere nella motonautica quindi vive per la motonautica invece la federazione segretaria beh la federazione vive con la giusta preoccupazione il dramma che sta vivendo questo paese perché ricordiamo che la recente nomina del commissario straordinario la siccità è un segnale che il problema c'è esiste ed è proprio tangibile è visibile su tutti i nostri fiumi i nostri laghi nonostante questo la voglia di correre è tanta però la federazione ovviamente monitora anche lo stato dei fiumi e dei laghi e laddove è sconsigliato o comunque non è opportuno prevedere delle manifestazioni sportive sull'acqua è ovvio che in questi casi si potrà fare a meno di correre in quei posti o comunque trovare dei posti alternativi di correre non che la federazione e le gare di motonautica consumino l'acqua ma l'acqua in Italia in questo momento è diventato un bene talmente prezioso e che deve essere a disponibilità di tutti per cui se è necessario nel caso la federazione potrà fare anche un passo indietro viste le emergenze che si stanno vivendo ma poi non dimentichiamo abbiamo anche il mare perché tante discipline della federazione italiana motonautica si disputano il mare abbiamo 8000 km di coste qualche problema sui fiumi e sui laghi però diciamo l'offshore Cervia Rodigarianico Napoli la Venezia Monte Carlo le moto d'acqua che iniziano Ancona Civitavecchia Salento si ritorna l'idroscalo dopo tanti anni insomma il di Porto come diceva l'amico Virginia quindi diciamo di occasioni brindisi per la Formula 2 Cariati in Calabria insomma quindi tante belle occasioni ci sono tantissime il programma è fitto come sempre come sempre l'Italia anche in quest'anno sicuramente fungerà da stampella ai promoteri internazionali per consentire lo svolgimento di gare importanti certo sempre nell'ottica generale a inizio stagione pontificano e pianificano gare a livello mondiale di qua di là a inizio stagione in Italia facci fare una gara ma è normale secondo lei il promoter fa il suo lavoro però ecco la federazione è sempre a disposizione dei promoteri internazionali già negli ultimi due anni prima col covid e poi l'anno scorso con le problematiche legalendarie internazionali la FIM ha dato sempre la sua disponibilità a coadiuvare il promoter nell'organizzazione di gare di Formula 1 e di campionati mondiali ed europei quest'anno la disponibilità c'è sempre pur tenendo conto di questa emergenza che stiamo vivendo il problema è soprattutto del circuito devo dire perché è la disciplina agonistica che si svolge prevalentemente in fiumi e laghi nelle altre discipline che hai citato tu prima moto d'acqua offshore endurance i mari per fortuna possono ancora ospitare ovunque in Italia gare di motonautica e poi abbiamo trovato anche delle regioni importanti perché noi abbiamo parlato dell'Emilia Romagna abbiamo parlato del Po ma in Emilia Romagna parliamo di Romagna terra dei motori nel moto d'acqua lo possiamo dire sono nate in Romagna le gare più belle di offshore sono state fatte e sono ancora fatte in Emilia Romagna vedi Cervia ma mi piace menzionare Cisenatico Bellaria Ravenna Rimini che nel corso del tempo hanno ospitate gare di mari aperte e di offshore quindi c'è anche un notevole contributo di certe regioni soprattutto la Puglia con Rodi Garganico la Sardegna che anche se sta vivendo dei momenti non facili per le date però diciamo parlo di Napoli che quest'anno ospiterà l'Europe Offshore e le moto d'acqua insomma la Calabria con Cariati insomma c'è tanto movimento sì di movimento ce n'è tanto e insomma il calendario è fitto come sempre quindi ci aspettiamo che partecipino numerosi piloti anche quest'anno e infatti sono numerosi i Virginio quelli del Diporto della tua categoria che inizia a Jesolo giusto ci siamo dimenticati del Veneto a Jesolo a metà giugno per questa nuova categoria del Touring che è legata al Diporto sì poi prosegue a settembre Cervia poi Napoli e a ottobre alla Centomiglia quindi quattro gare cosa serve per gareggiare in queste categorie beh in teoria sono in teoria bisogna essere tesserati alla federazione perché si sono tutelati dal punto della vista della visita medica dell'assicurazione e questo è diciamo la condizione sine qua non poi serve la barca serve la barca massima lunghezza 8 metri e vabbè poi ci sono sono suddivise in quattro in quattro classi dove c'è una si andrà a vedere cilindrata potenza peso e quant'altro che adesso non voglio stare scendere nel merito e comunque ripeto però abbiamo visto barche anche di serie ma anche gommori quindi aperte a tutti sì diciamo allora la vecchia formula che piaceva tanto a me era tu la stessa barca che usi per andare a spasso la domenica prima la domenica dopo ci vai a fare una gara mi insegnate che non è veramente così però devono derivare da quello insomma sono barche da di porta barche normalmente di serie dove poi sono messe alcuni particolari ma non più di tanto però obbligatorio il casco il giubbotto di salvataggio certo tutte le sicurezze ci sono comunque come per qualsiasi altra gara ecco inizio a Iesolo lo ricordiamo che ospitò l'offshore negli anni 80 alla Mene di Cavallino quest'anno invece organizzato dall'amico Giampaolo Montavoci che è il presidente della commissione offshore che sarà presente la prossima settimana si va proprio nel porto di Iesolo quindi una grande visibilità ed è in concomitanza con altre specialità offshore endurance e così via lo stesso vale per tutte le altre gare anche per finire poi a Napoli l'unica problematica che io vedo per Napoli trattandosi di di Porto è che va a cadere proprio in concomitanza col salone nautico di Genova e il di Porto la settimana dopo scusami no 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 è proprio a cavallo ma loro a Napoli hanno il loro salone dove la federazione era presente giusto? e Napoli è Napoli scusami è capitale della Nautica velocissimo in chiusura a proposito di Napoli visto che quest'anno è l'anno di Napoli dal calcio insomma una città che sta vivendo un momento straordinario dal punto di vista sportivo ci tengo a sottolineare il fatto che il 29 di aprile ci sarà la prima gara di campionati italiani di moto d'acqua niente un po' di meno che sul lungomare Caracciolo quindi una cornice di spettacolo assoluta dove la federazione mancava da qualche anno quest'anno siamo riusciti tra mille difficoltà a ritornare a Napoli quindi a Napoli inizia la stagione a fine aprile quindi fra poco lungo Mare Caracciolo allora c'è la pubblicità che gli amici degli spettatori mi hanno toccato il telecomando perché continuiamo a parlare di motonautica nella seconda parte di S4 il talk show di sportador.tv il canale televisivo tutto dedicato allo sport tra la nautica e al turismo a tra poco sportautorviaggi.it l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca vela e catamarano scopri le bellezze della Sardegna con sportautorviaggi.it Marco leader mondiale nella produzione di pompe elettroniche ed avvisatori acustici Sanice fatti di sport Osis Technology nei nostri tour scorre passione di sport e di sport di sport e di sport In collaborazione con sportoutdoorviaggi.it Marco Osis Technology